O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguarda noi umilmente prostrati innanzi a te. Noi siamo tuoi, e tuoi vogliamo essere, e per vivere a te più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi oggi spontaneamente si consacra al tuo sacratissimo cuore. Molti purtroppo non ti conobbero mai, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripuriarono. O benignissimo Gesù, abbi misericordia e degli uni e degli altri, e tutti quanti attira il tuo sacratissimo cuore. O Signore, sii il re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da te, ma anche di quei figli prodighi che ti abbandonarono. Fa che questi, quanto prima, ritornino alla casa paterna, per non morire di miseria e di fame. Sii il re di coloro che vivono nell'inganno e nell'errore, o per discordia da te separati. Richiamali al porto della verità, all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo vile sotto un solo pastore. Largisci, o Signore, incolumità e libertà sicura alla tua Chiesa. Concedi a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine. Fa che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce. Si alode a quel cuore divino da cui venne la nostra salute. A lui si canti gloria e onore nei secoli dei secoli. Amin.